Sono passati poco più di 10 giorni dalla fine del Mondiale del Formula 1 2023, gelo tra gli appassionati e addetti ai lavori e non, infatti qui da noi sta nevicando, però al caldo di casa nostra, tempo del Pagiolone 2023 per quanto riguarda il massimo campionato motoristico internazionale. Non sono solo, ancora una volta, ai microfoni di Matthew Torgard in compagnia di il vostro Jag, che torna dopo aver fatto il Pagiolone della Superbike, quindi ancora una volta ricordiamo di seguirci su entrambi i nostri canali per quanto riguarda content di vario tipo, nel mio caso ci sarà anche una parte di gameplay dedicata a un altro sport che è il baseball, avete visto l'episodio numero 0 pilota questo mercoledì. Sul canale del Fabioni invece cos'è che troviamo, giusto per farci un po' di sponsorship reciproca? Beh, un po' di gare sui kart della vita vera, un paio di vlog che alla fine sono stati fatti insieme anche quelli dove andiamo a vedere le gare dal vivo e poi principalmente simracing di vario tipo con e senza VR, insomma un po' di tutto, un po' di tutto. Formula 1, GT, insomma tante robe, peraltro su Formula 1, visto che siamo in tema, l'anno prossimo tornerà qualcosa, possiamo già dirlo. Tornando però alla Formula 1, noi abbiamo parlato della Coop 2024, parliamo della Formula 1 2023 con il Pagiolone. Format è lo stesso che abbiamo fatto nelle altre occasioni, voti da F a S per tutti e 22 i piloti di questa azione 2023 a partire dalla classifica del Mondiale. Un Mondiale che per quei pochi che non lo sapessero ha letteralmente bullizzato Max Verstappen. Sì, esatto, cioè nel senso che è lui che ha bullizzato tutto il Mondiale e tutti gli altri. Infatti secondo me non abbiamo abbastanza piloti per coprire tutte le lettere dei voti, perché penso che la spada di Damocle questa sera sarà molto, come posso dire, molto inclemente, ecco mettiamola così. Un Max Verstappen al quale, e qui entriamo subito nel tema del Pagiolone, non possiamo che non dare S più. Perché Verstappen fa un altro sport. Io non gli darei neanche un altro pianeta, faccio l'immagine del pianetino, ci metto Giove e lui sta su Giove mentre gli altri stanno sulla Terra. La macchina è fenomenale, tant'è che il secondo è il suo collega, però una differenza del doppio dei punti non la spiega la macchina, voglio dire. Se gli anni scorsi faceva qualche errore, ricordiamoci che l'anno scorso quel 360 in mezzo al Lungaro Ring incredibile, bellissimo, spettacolare, recuperato sul bagnato, dimostrazione di classe, ma dimostrazione anche che gli errori li sapeva fare. Quest'altro sono stati inesistenti gli errori, cioè è stato un alieno, letteralmente un alieno. L'unica volta che non ha fatto o primo o secondo ha fatto quinto, ma perché la macchina era settata malissimo per il circuito di Singapore. Diciamo che Verstappen è una S, ma vabbè, non ne daremo altre. Cioè se Verstappen è il benchmark così alto, gli altri prendono voti molto molto bassi. A cominciare da Perez, e qua secondo me ci divertiamo. Secondo nel mondiale, con una macchina rotta in culo, perché la Red Bull era rotta in culo, però con la metà dei punti del primo, anzi molto meno, e ha pure rischiato a tratti di non essere secondo. Bravo, perché per tanto tempo ha rischiato. Per me Perez è da F. Sì, forse chiederebbe, quest'anno sì. Questa stagione sono per questa stagione qua e non per la carriera, no? Madonna come ha rischiato male, ma poi se guardiamo anche appunto la serie, no? Cioè secondo, primo, quinto, primo, secondo, tutti a punti, vabbè, un sedicesimo ci può stare, quarto, sesto, terzo, sesto, terzo, secondo, quarto, secondo, tutti a punti. Ottavo, ritirato, decimo, un quarto che ci sta ritirato di nuovo. C'è stata una fase in cui o era al limite dei punti o scoppiava. E' stata una fase un po'... magari la F non si amerita, cioè mezzo mondiale alla fine l'ha fatto benino. Con la sua macchina dovevano essere tutti i podi, però l'ha fatto anche abbastanza bene. Si è risvegliato le ultime due gare, però sì, c'è stata una metà di mondiale terrificante. Cioè la parte intermedia era scomparso nel nulla. Le qualificazioni partiva sempre da fondo classifica, poi con la macchina che ha è ovvio che va a punti, grazie al cazzo. Però partiva a diciottesimo. Come fai a fare una qualifica così? Come si fa? Allora, è vero che Verstappen è un fenomeno e Perez è un buon pilota, ma non è un campione. Ma la macchina è la stessa, cioè noi abbiamo visto mondiali dominati. Mi viene in mente quelli della Mercedes, ai tempi di Hamilton, con Rosberg. Erano due grandissimi piloti, ma tutte le volte erano primo e secondo loro due, praticamente, no? E se la giocavano. Ma anche con Hamilton e Bottas, pure che Bottas non avesse il talento di Rosberg, ma era sempre a podio anche lui. Cioè, poche volte non c'era. Terzo posto, Lewis Hamilton, che di Riffa o di Raffa nel podio mondiale, questo c'è praticamente sempre, cioè... Non c'era... Posso dare una bella A piena ad Hamilton, forse A più, in alcuni casi, guarda. È onesta l'A più perché si è fatto un culo incredibile quest'anno. Non c'era l'anno scorso perché l'anno scorso c'era il suo collega sul podio, per così dire. Non era sul podio, però era lì, nelle vicinanze, il podio degli altri, diciamo. C'era il suo collega che aveva fatto delle belle prestazioni e che quest'anno invece ha deciso di fare il suicida della situazione, nel senso che causa adesso malpianga a se stesso, poi ne parleremo. Hamilton ha fatto l'onesto con la macchina onesta. Cioè, è un pilota di Trento, la macchina non faceva schifo, l'ha portata dove la doveva portare. Come chi dopo di lui in classifica, che arriviamo a parlare anche di lui. Voglio dire, con i mezzi che aveva, più di così non si poteva fare, è stato impeccabile. Quindi, boh, se a Verstappen dai S più, per me puoi dare anche S a Lewis Hamilton, se c'è volendo. Quarto classificato, Fernando Alonso. Che, secondo me, si becca una comparativa con Hamilton. L'unica differenza è che, se Mercedes ufficiale è salita nella seconda parte della stagione con Hamilton, perché Russell ni, Aston Martin, tranne un lampo in Brasile, in quella gara clamorosa con Perez, di fatto è scesa e Aston Martin conta su un solo pilota. Rimane il fatto che, anche per me, Alonso è da A, se non da A più. Allora, se noi guardiamo il paraguolo con il suo compagno di squadra, il suo compagno di squadra non cambia un cacchio nel corso di anni. Non cambia più niente. Cioè, il prestazione è sempre quella, altalenante, quello che vuoi. Alonso si è piazzato quasi sempre bene in qualifica. Per la macchina che ha, come dici tu, la macchina è in calando. In gara su 70 giri il calo della macchina lo senti per forza. Cioè, in paragone ad altri che hanno auto migliori. Però, nei duelli pochi hanno combattuto come lui, quest'anno, secondo me. Secondo me, come pilota, lui merita quel più in più di Hamilton, secondo me. A più per Alonso che, insomma, a 42 anni continua a dimostrare che il talento non si perde. Già, poi c'è anche il fattore Anagarfe, esatto, cioè è allucinante. Sì, sì, questo qui comunque a 42 anni ha fatto 5 poi delle prime 6 gare. Insomma, era il primo degli altri per gran parte del tempo. Poi dopo sappiamo com'è andata. In quinta posizione in classifica, Charles Leclerc. E qua, al capitolo Ferrari, iniziamo ad aprirlo. Perché c'è tanto da dire. Leclerc potrebbe avere un giudizio abbastanza divisivo. Al netto che ha fatto una seconda parte di stagione, o meglio, un ultimo terzo di stagione, clamoroso. E gli è mancato tutto il primo, però. Quindi io più che a meno non riesco a darglielo. Sì. Per me Charles Leclerc, io non mi ricordo lo scorso anno, ma secondo me il ragionamento è lo stesso dello scorso anno. Cioè per me continua ad essere un pilota da B. Cioè, è un pilota che ha degli sprazzi di talento puro, nudo e crudo. Ma, adesso uso una parola brutta perché non mi viene una parola migliore da usare. Ma non ha la stoffa per stare dove sta. Cioè nel senso, non è la stoffa la parola giusta, ma adesso mi capisci cosa voglio dire. È sempre, un po' come quando parlavamo di noi sui Charles, no? È sempre lui quello che alza il piede. Come io quando vedo che sto per schiantarmi sono sempre io che alzo il piede. È sempre lui quello che alza il piede, ok? Troppe volte perde scontri che non dovrebbe perdere Charles Leclerc. Poi magari ti fa un sorpasso all'esterno di Cops che abbiamo visto l'anno scorso, che è una cosa che tu dici, ma come cazzo ha fatto? E lì ti rendi conto che ha un talento che è smisurato. Poi però, la scuderia gli dice stai fuori altri dieci giri con le gomme finite. E lui non si lamenta, non dice niente. La scuderia gli dice tu sei davanti ma cambiamo le gomme a Carlos. prima che a te, e così intanto tu perdi tempo. E lui non dice niente e non si lamenta. La scuderia gli dice non combattere quando ne ha palesemente di più di un altro. E lui ci sta. Cioè, capisco che è importante portare a casa i punti. Ma tu non vincerei mai il mondiale se sei tu quello sulla macchina e non dai direzione a chi ti deve aiutare, soprattutto se sono dei handicappati come in Ferrara. Non dai un aiuto a chi ti deve aiutare tu. Se non ci metti del tuo negli scontri. Adesso, banalmente, quando Russell si è schiantato a muro all'ultima curva, se non ricordo male, di Montreal. L'ha fatto perché ha tentato un sorpasso improponibile. In quel caso non ha pagato perché si è schiantato a muro all'ultimo giro. Effettivamente è un po' una minchiata. Però apprezzo che ci abbia provato. Cioè, tirarsi in premi in bacca non ti porterà mai a vincere il mondiale. Hai capito cosa voglio dire? E poi è troppo altalenante. Cioè, tutti gli anni, le gare dove va bene lui, va male Sainz. Le gare dove va male Sainz, va bene lui. Chiaramente hanno due modi di guidare pressoché opposti. Perché è sempre la stessa altalenanza, sono sempre lo stesso andazzo nel mondiale. È sempre così. Però, anche lì, ci devi lavorare su queste cose. Non puoi vincere un mondiale se gareggi bene solo nella metà delle piste. La macchina non ti dà una mano. E siamo d'accordo. La Ferrari, quella di quest'anno, è da mettersi a piangere. Però, manca qualcosa. C'è un talento smisurato, ma manca qualcosa. È come se ogni tanto si bloccasse. Non fa il sorpasso. Non propone la strategia. Non riesce a calarsi nella sua concentrazione, nel suo talento, in una determinata pista. Non lo so. Io ho la sensazione che manchi qualcosa. Parliamo di uno dei più grandi qualificatori della storia della Formula 1 moderna, se non forse il più grande qualificatore della storia. C'è una statistica preoccupante per i tifosi di Le Glerg, che è le ultime 12 pole position mai convertite in vittoria. perché parliamo di un pilota che ha fatto 25 pole position o 29 pole position, comunque un numero spropositato, e ha vinto solo quattro gare. Sì, esatto. Quello. Però, ripeto, per la macchina che aveva fatto... La Ferrari ti dà una mano. L'abbiamo detto e lo ripetiamo. La Ferrari ti dà una gran mano a non vincere le gare. Però, ci devi mettere del tuo. Cioè, quante volte abbiamo sentito la McLaren dire a Norris, alza il piede, e Norris gli rispondeva col cazzo e teneva giù il piede. Pertanto sono io che guido. Decido io come portarla a sta macchina. Se la sento bene e so che posso tirar giù un secondo, tiro giù un secondo. Lando no wins. Sesta posizione per il nostro idolo che... Allora, parto io da tifoso McLaren. Porca miseria, anche lui gli manca sempre il centesimo per fare l'euro con la macchina che va. Si è beccato un Verstappen sontuoso in grazie di Dio. Io però, più che B più, non gli do. Perché per un semplice... Gli dai meno che Alec Lerch. Sì, perché l'unica gara che poteva vincere la McLaren l'ha vinta Piastri, che era una gara sprint. E Norris è più forte di Piastri, nel senso, è la prima guida, tra molte file di virgolette. Bene, ma fanculo che ha vinto quella singola sprint e chi se ne sbatte della vittoria, ma guarda la costanza del pilota, guarda la crescita della macchina, grazie al cacchio, ma anche del pilota. Piastri al primo anno non è un paragone oggettivamente proprio giusto. Secondo me su qualche gara Norris poteva fare un po' di più. Guardano in paragone con Piastri, ma qualche gara poteva fare di più, sono d'accordo. Però tutti i secondi posti possibili se li hai portati a casa e i primi non erano possibili perché c'era Max Verstappen. L'unico che non si è portato a casa era quello. Allora, tu calcola che la B+, è un medione tra una S della seconda metà di stagione e una F della prima. Ma la F non è dovuta a quel peso. Però nella prima non posso neanche dargli la F. C'era la macchina, zio, che faceva schifo. Cioè, se tu guardi le prestazioni di Piastri nella prima metà di stagione erano esattamente come le sue. Cioè, c'erano l'ultima macchina del mondiale e la prima metà di stagione dove vuoi andare. Ma infatti io con... Cioè, non posso dargli una F, la devo dare alla McLaren. Sì, sì, ma infatti i voti saranno uguali per questi fattori qui. Cioè, lo dico da tifoso della McLaren, poi ovvio che i nostri voti possono dissentire. Il mio giudizio è un B+, e tu non sei d'accordo? Cosa gli diamo a Landone dalla parte di Jake Tv? Io, per me, se Leclerc è da B e è stato, come dicevamo, ha fatto anche lui la sua metà in A, la sua metà in F, per Dio. Però è stato altalenante. Per me Norris è stato tutto in crescita a quest'anno. E, appunto, togli quella vittoria che oggettivamente potrebbe essere la sua e non di Piastri, volta quella e lo schiantare la macchina a Las Vegas per me è stato un anno abbastanza impeccabile per noi. Io gli darei un A, sinceramente, a Norris. Per me. Mio perso è giudizio. Settimo classificato. La classe operaia. Carlos Sainz. Colui che ha avuto il merito di vincere l'unica gara non di una Red Bull quest'anno. In quella pista di merda di Singapore è arrivato il miracolo della classe operaia. Carlos Sainz. Che facciamo con Carlos Sainz? Perché tra una stagione dove buavano con lui e Leclerc dove non si capiva chi era, chi, le strategie dove andavano, probabilmente nel rudo, tutti che sentivano prima guida, il riscatto a Monza, il podio e la vittoria a Singapore, un altro podio a Austin, Texas, compito la scuola di Leclerc. Io ti dico sempre, per me vincere una gara quando poi tutto il resto del tempo non sei costante non conta niente. Cioè per me conta di più la costanza. Per me valutare le cose conta di più la costanza o se proprio proprio l'andare in crescita. Ecco, nel senso che vuol dire che hai avuto un percorso. Hai avuto l'exporto di una gara, sono contento, tutto il resto mondiale non hai fatto niente. Perché io devo essere onesto, per me Sainz è da B forse B- in verità. B gliela darei, sì. Forse B- meno perché gli darei un po' meno di Charles Leclerc. Leclerc mi viene accomplished in inglese, mi viene in italiano, però qualcosina in più, no? Qualcosina in più. Però come dicevamo sono sempre le due facce della medaglia, dove va bene uno va bene l'altro e viceversa. A proposito di gare buttate nel cesso e forse una stagione buttata nel cesso, George Russell. F! Bravo! Io volevo dargli proprio F a Russell. Insieme a Russell secondo me è la più grossa delusione del 2023. Al di là dei piloti meme di cui parleremo in fondo, ma dei piloti veri Russell è la grande delusione della stagione 2023. Senza se, senza ma, proprio non ho dubbi a riguardo. Ma sai perché? Perché rispetto all'anno scorso, secondo me si è fomentato l'anno scorso che è andato forte, quindi quest'anno voleva strafare a cazzo duro, punto, tutto qua. perché ha solo fatto coglionate, solo coglionate, cioè lui a guidare le gare che ha corso, ok, è andato o a podio o comunque a punti o comunque ha lottato con i primi lì davanti, voglio dire, poi un paio di volte si è fatto superare da Hamilton come un pollo, però in linea di massima stava sempre nella zona di dove doveva stare tecnicamente la sua macchina se ce ne immaginiamo come per la prima metà del mondiale e la terza barra quarta, loro stavano sempre nell'alta zona punti, quindi va bene, cioè nel complesso ok, però poi vedi che la butti nel muro, come ho detto io lo apprezzo che provi il sorpasso, piuttosto che non provarci, apprezzo che lo provi e la butti nel muro ammettendo che tu impari qualcosa da quella situazione, cosa che però sembra che Russell non abbia fatto nel corso della stagione. A proposito di talento puro, non ho classificato, Oscar Piastri. ora, a Landone gli ho dato B+, ad Oscar noi gli diamo sempre B+, per i motivi di qui sopra, nel senso che finché aveva la macchina senza aggiornamenti F, ma non per colpe totalmente sue, quindi gli ho dato la macchina con aggiornamenti e cazzo che roba, quindi F più S diviso 2 fa B più top, ecco, questo è il medione totale, ha vinto nella gara sprint, ha fatto vedere comunque di essere il più talentuoso di cui io parlavo da tanto tempo perché avviva le categorie propedeutiche grazie signore, è uno che ci farà divertire tanto, il problema è che la macchina c'era e non c'era, perché poi Piastri a differenza di Norris è calato, quindi ha avuto più che altro esatto, è mancata la costanza. così. Cioè ha avuto quell'expload della gara dove ha fatto primo e secondo, però allora diciamo due cose, anzitutto dove ha fatto il secondo, se la gara durava altri 10 giri arrivava terzo, perché noi gli stava mangiando mezzo secondo al giro e mezzo secondo al giro è tanto sulla stessa macchina, cioè è la distanza da Verstappen-Perez e a Perez gli abbiamo dato un voto molto più basso di Verstappen, giusto per avere un paragone. Ora questa cosa che sto per dire mi fa molto male, in top 10 mondiale, Lance Stroll, F, vaffanculo andiamo avanti, basta, non c'è la... Sì, no, no, possiamo andare avanti, cioè non... Possiamo andare avanti, possiamo chiudere... La differenza... Allora, Verstappen ha dato il doppio dei punti al suo collega, allora sono andati un pochino di più a questo... Cioè, nel senso... No, vabbè, dai, aveva una macchina che è per la prima metà di mondiale e era rotta. Tutto quello che volete, ha fatto anche delle buone prestazioni con top 5, è un pilota inguardabile, è un pilota pagante che non è mai evoluto e mai evolverà. Stop. Fine. Fine. Pierre Gasly, e qui andiamo ad aprire un po' il capitolo Alpine, perché nella parte destra della classifica abbiamo entrambe le Alpine, quindi se noi potremmo fare un discorso unico. Gasly, undicesimo con dodicesimo. Non ti dico l'Alpine da F, perché no? Sì. Sì. Gli potrei dare un acido ufficio, perché, boh, cioè, parte per essere la quinta ufficiale ed è la quinta ufficiale, cioè, sta dove dovrebbe essere. L'Alpine dall'anno scorso è marcita, perché è marcita male, male, male. Gasly ha ricevuto più o meno lo stesso trattamento che riceve Charles Clerc in Ferrari, cioè, diamo sempre la priorità ad Ocon. Sì. Nonostante Ocon si è studiato a Gasly. Nonostante io faccia sempre meglio di te, ok? Sempre meglio no, siamo lì, però, in linea di massima dimostro di essere un filo meglio, anni precedenti compresi, ok? Nonostante ciò, sono sempre quello che la prende nel culo. Mettiamolo un po' su questo piano. Sono quelle classiche situazioni dove dai C di ufficio perché sono delle squadre derelite, magari non nel caso dell'Alpine. Sì. Puoi dare sì tra i C un dito. In questo caso è difficile trovare uno più bravo tra i due, cioè, tra Gasly e Ocon, sì, dai C a tutti e due per stati due onesti mestieranti, come dici tu. No, Gasly per me è più bravo di Ocon, poi, ripeto, sono stagioni comparabili perché uno ha fatto 62 punti con un podio, quell'altro, 4 in meno con un podio. Faccio un discorso complessivo, Alpine, la quinta squadra ufficiale sulla carta, è più o meno arrivata lì, quindi è C. Cioè, senza infamia, sta dove dovrebbe essere. Chi invece si merita un voto molto alto a rispetto della posizione secondo me è Alexander Albon. E qua viene il bello perché voglio sapere che voto gli dai. Per me Albon è da A. E basta? Un piuto. Cioè, perché ripeto, ha dato S a Verstappen, se dai S a Verstappen gli altri si beccano meno. Quindi si beccano la S non gliela posso dare perché abbiamo detto che Verstappen è stata la perfezione ma più sì. Perché Albon con il sesso di macchina che ha ha fatto il 99% dei punti della Williams. No, ma a parte ha fatto il 99% di più della Williams. Ha fatto anche il 99% dei punti in più di metà delle scuderie del Mondiale messi insieme di tutti i loro piloti da solo. Cioè, voglio dire... Sì, 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 c'è la stagione di Albon e non ha una Red Bull ma una macchina di merda. Cioè, gli dovremmo dare S in un mondo giusto ed equilibrato ma siccome c'è quell'altro che ha settato il benchmark molto in alto gli diamo A più ad Albon. La sua A più è meritatissima. Il punto è se gli dessero una promozione lo licenzierebbero per la terza volta di fila quindi forse è meglio se sta dove sta. Ok? Perché dove è adesso a una scuderia che lavora per lui e può dimostrare quello di cui è capace. Al tempo stesso il suo può dimostrare quello di cui è capace coincide con il però non posso dimostrare un cazzo perché è una macchina che fa schifo. Secondo me di Dufficio non ha fatto punti una gara porca puttana ha fatto punticini con l'Alfa Tauri sì ha avuto la meglio sui compagni di squadra ma anche qui Snoda correva a fianco a nessuno parziale scusante toh quando è arrivato Liam Lawson che in una gara si è fatto due punti praticamente ok e due gare delle cinque che ha fatto è arrivato al limite dei punti con quell'Alfa Tauri delle palle in quel tempo lui in tre gare aveva quasi fatto punti tre volte abbiamo Zunoda che nel mentre era andato a punti due volte in tutto il mondiale e non ci è andato vicino manco me ora onestamente in un mondo giusto e l'Oso non l'ha mai guidata quella macchina questo sta in Formula 1 da tre anni in un mondo giusto Zunoda sarebbe da mandare in altre categorie vedi il WEC vedi la Formula E in altre categorie dove magari può esprimersi meglio non mi sembra un pilota da Formula 1 quantomeno da prospettive molto alte nelle proprie deutiche Zunoda non è che avesse fatto sto granché qualche gara l'aveva vinta per l'amor di Dio era rookie dell'anno in Formula 2 più che altro ha avuto la sua possibilità ha dimostrato che è un buon pilotino però è classico come dicevi tu onesto mestirante pure forse nella parte bassa anche lui che secondo me a questo punto può lasciare il posto a qualche altro talento che può provare a dimostrare qualcosa Bottas Bottas se lo vuoi paragonare all'anno scorso è un LF se lo vuoi paragonarlo all'anno scorso ho capito ma l'Alfa Romeo è tipo più o meno la peggior macchina del mondiale insieme ad Alfa Tauri o comunque giù di lì però l'anno scorso ha massacrato il suo compagno di squadra quest'anno ha fatto tre punti in più l'Alfa se la becca Nicola Sulkenberg senza se e senza ma perché a Nicola Sulkenberg gliela do anche con come si dice con un po' di piacere che sai perché anche gliela do con un po' di piacere è vero che mi ha fatto fuori Schumacherino e a me Schumacherino non è mai piaciuto per vari motivi anche al di fuori della pista però a posteriori onestamente se dovessi prendere tra Schumacherino e Ulkenberg allora tenevo Schumacherino cioè non ha senso la politica di Haas cioè Haas ha scelto una politica orrenda prendendo due grandi veterani per portare a casa le macchine va benissimo per l'amor di Dio la crisi economica c'è tutto quello che volete però allora prendere un pilota per fare bassi fondi della classifica cioè basta che prendi qualunque tizio della Formula 2 delle academy le metti lì dentro e dai possibilità a questa gente qui anche Ricciardo insomma si bello guarda i risultati guarda i risultati di selezionare lui prenda lui invece di Liam Lawson guarda i risultati cioè Ricciardo boh non è una F perché no perché quel settimo posto in Messico ha fatto comunque molto meglio di Tsunoda ha fatto quasi più punti di Tsunoda lui che è tutto Tsunoda in una carriera fra un po' in una singola stagione però meno di D a Ricciardo cioè gli do D perché va bene è arrivato in corsa delle gare le ha saltate e quel poco che ha fatto si è difeso però ripeto è D allora la macchina si è sempre lì la macchina non ti aiuta è quello che vuoi però se mi va a punti Tsunoda ci devi andare anche tu che sei Daniel Ricciardo che hai giocato per il mondiale per qualche anno cioè non sei un pilota fatta e finito c'è la tua età va bene è quello che vuoi ma questa non è una prestazione da Ricciardo nonostante la macchia cioè lui doveva essere sotto ad Albon con quella macchina lì chiudere parentesi Guanyo Joe che ne facciamo con Guanyo Joe che l'anno scorso era un F d'ufficio in quanto pilota pagante schifoso bla 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 e beh quest'anno l'hanno pagato e ha fatto schifo quindi che facciamo con Guanyo Joe di d'ufficio come Gualtiero così ci abbracciamo forte ma sì ha fatto un po' peggio di Bottas ma cosa gli vuoi dire alla fin fine cioè oddio più che altro in realtà se paragoni i risultati la prima metà dell'anno la prima metà dell'anno scorso quindi la prima metà dell'anno ha fatto meglio dell'anno scorso e ha fatto meglio di Bottas la prima metà dell'anno poi la seconda lui è andato incalando e Bottas per quanto possibile con quello che ha fatto increscendo Liam Lawson l'idolissimo delle folle della Titano squadra corsa e non solo ha più con le stelline che cazzo dobbiamo dire cioè uno che ti fa cinque gare una va a punti due fa undicesimo e le altre vabbè una non vale perché in Olanda l'hanno chiamato all'ultimo e l'altra era a Qatar con quelle condizioni tremende che sapevamo meritava la riconferma al posto di Tsunoda in modo inspiegabile fa il pilota di riserva io può no senza offesa meritava la riconferma al posto di Ricciardo cioè nel senso va bene nell'insieme probabilmente Ricciardo sarebbe in grado di far meglio ma è sempre il solito discorso del prendere un quarantenne piuttosto che uno di vent'anni Tsunoda nei suoi limiti perché probabilmente non aveva mai il tanto di Ricciardo può ancora crescere Ricciardo può solo calare Logan Surgent è riuscito a fare ventunesimo su venti piloti regolari easy allora io so che tu difendi di Logan Surgent ma fai in un'intera stagione avere il tuo compagno che ha fatto 30 volte i tuoi punti 30 volte i tuoi punti ok quello penso che sia un record all'interno del football gli diamo una di meno d'ufficio credo che sia un record va bene che sei rookie va bene che sei rookie ma il tuo collega ha fatto 30 punti tu ne hai fatto uno uno stronzo che ha corso tre gare ne ha fatti due ok con una macchina peggiore no bella allora al di là delle battute il sergente si dovrebbe beccare una F parliamoci chiaro per me si prende una F si prende una F vogliamo bene al sergente ma F l'ha riconfermato per l'anno prossimo anche qui Surgent era uno della Williams Academy e ha giusto metterlo su non quest'anno però perché un anno in Formula 2 non basta da rookie ha fatto un rookie dell'anno è come Tsunoda stesso identico percorso ha fatto un anno in Formula 2 e bam Formula 1 da rookie dell'anno se ad esempio si chiede essere uno Tsunoda ad oltreoceano invece la chance non l'ha avuta ed è durato meno di un ostia in una comunione Nick DeVries che è durato 10 gare non l'abbiamo praticamente mai visto grazie è stato bello peraltro DeVries correrà se non sbaglio in Formula 1 l'anno prossimo e nel WEC anche e nel WEC sì ma il fatto che io vorrei far notare che mi ha dato particolarmente fastidio allora Nick DeVries è salito su una macchina di merda perché siamo d'accordo e non si è saputo adattare probabilmente anche perché la sua vecchia Formula E cioè i Formula E di seconda generazione erano auto come ha avuto lo stesso problema passano il termine di Ricciardo col primo anno dell'effetto suolo cioè passi da una macchina ad aerodinamica attiva a una ad aerodinamica passiva ok cioè dall'era aerodinamica che ti passa sopra a quella che deve succhiarti verso terra che è un modo di guidare completamente diverso più rotondo più strano eccetera è ovvio che devi darmi il tempo di abituarmi e lo stesso discorso di Sergent che fa ventunesimo su venti e me lo tieni un altro anno perché deve provare a formarsi uno come Nick DeVries che in altre categorie è campione del mondo secondo me un minimo di fiducia di tempo dovresti darglielo mi sembra una stronzata DeVries è l'unico pilota stava andando male sì però è l'unico pilota al quale non mi sento di dare un voto per me DeVries è senza giudizio non è durato abbastanza punto no non puoi dare il letto perché se lo paragoni al suo collega sia lì ma ha fatto metà stagione anche cioè come fai paragonare uno ha fatto 10 gare su 22 con uno che è lì da 6 cioè è difficile quindi siamo ancora una volta in chiusura grazie ovviamente a tutti voi per aver seguito il pagellone grazie a Jake per aver partecipato ci saranno appuntamenti sempre sul canale mio e suo in cooperativa ovviamente quelli non mancheranno mai a partire da fine di quest'anno inizio dall'anno prossimo quindi al solito rimanete sintonizzati sia da me sia da Jake TV quindi il saluto da parte di Matthew Torgard e di Jake grazie a tutti